in compagnia di alice e faremo un bel trattamento osteopatico alice girati verso la finestra dimmi un pochettino come stai oggi se i fastidi dolori tensioni ok qua centrale ok più questa zona qua ok tu mangi bene mangi male vita anti caffè ok fastidia lo stomaco ok da quanto tempo il dolore è comparsa da quando è fastidio allo stomaco ok allora qua ti faccio male qui qui vai giù a toccati la punta dei piedi torna su mettiti seduta al centro del lettino braccia dritte spingi verso l'alto spingi verso il basso spingi verso il fuori spingi verso il dentro forse è buona mani sulle spalle spingi verso l'alto la coscia anche questa verso il fuori la gamba anche questa gira al collo a destra dimmi cosa vedi di me mano gomito mano gomito spalla mano gomito spalla viso ok gira sinistra stessa domanda se comprimo così ti faccio male sempre nella zona che mi dicevi prima ok qua no ok qui quindi qua ti fa male da 1 a 10 quanto se ti porto un po più in alto ritorna come primo scende ancora tanto quanto facciamo così tenilo così inclina e ruota molto meglio molto meglio ok giù se invece ti porto in su questo aumenta o anche con questo scende ok va bene allora cominciamo a fare una manogretta qua sentire il rumore tipo quando ti scrocchi le dita ma non spaventarti che non fa male eh morbida morbida bravissima ferma così tiene il braccio su uno due giù anche di qua morbida ok sei sempre seduta in piedi ok fai sforzi magari qualche momento sbagliato rifatto è proprio un blocco meccanico hai un bel respirone fuori ancora fuori perfetto sempre a pancia in su così ma solo un pochettino più vicino a me bravissima mano mano spalla spalla anche qui sentire un rumoraccio eh ok allora sulla testa a me inspira brava sta bella morbida fuori d'aria ok direi che qualcosina c'era cosa dici ok gira sul fianco sinistro ok vieni vicino a col sedere vieni 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 guarda che c'è stop allora qua ti sentirei cadere al lettino ma non cadi questa è bella morbida che non succede niente gomito gomito giù giù molle molle brava inspira fuori l'aria fianco destro così l'addrizza questa inspira fuori l'aria ok adesso cominciamo a ragionare è sceso un po' ok avrei fatto sicuramente qualche movimento eh quindi domani un po' di fastidio post manipolazione lo avrai poi basta due giornetti stai benissimo un po' di tensione qua ce l'hai comunque muscolare un po' tanta diciamo fai stretching? no bene come te lo dico io spingi con la gamba verso l'alto vai spingi stop spingi ok questo è fastidiosissimo non c'è dolore allora ferma così dimmi se è troppo dolore eh è troppo dolore non c'è dolore sì a parte delle mie ginocchia sì eh male resisti 5 4 3 2 1 bravissimo mi fai un bel respirone fuori l'aria ancora fuori ancora e fuori vai 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 l'ultimo ok ok seduta ti girai un po' la testa non spaventarti eh ok mano sui fianchi una bella gomitata all'indietro più veloce che puoi come te lo dico io ok vai bravo uno proprio un colpo eh ok vai eccola bravo ora metti le gambe di qui vieni più vicino a me metti questa mano dietro il collo occhio sui cappelli che stanno ti riprendo dentro mhm così esatto giù la testa inspira fuori l'aria lasciati cadere indietro ok torna seduta allora non ho trovato molte cose mhm qualche blocco c'era ma secondo me da movimento sbagliato hai fatto qualcosa che mhm non è una cosa nella tua postura soprattutto in questa zona dove avevi dolore e il suo punto è riflesso che è sopra tolto questo stare bene sciogli i muscoli un bel massaggio del contratturante ti serve ok adesso ti fa tutta la forza vediamo quanto quanto hai guadagnato di forza dopo il trattamento e ti faccio fare uno scarico ok braccia dritte sei stata brava eh per essere la prima volta si si spingi in su spingi in giù spingi in fuori spingi in dentro molto bene bene grazie mille grazie a voi e ci vediamo tra sei mesetti va bene esatto